Degustare diventa un gioco con il Wine Contest di Capannelle. Torna il grande evento dedicato a wine lovers, esperti o semplici appassionati di vino. Martedì 9 luglio dalle ore 18 in Piazza Ricasoli a Gaioli Inchianti, 5 grandi vini in degustazione alla cieca da indovinare. Per i più bravi, in palio, il celebre calice d'argento Brandi Marte ed esperienze enogastronomiche. Wine Contest di Capannelle, il piacere della sfida. Grazie.